Potrei dire che da ormai 4 anni nel settore pesi leggeri siamo leader al mondo, potrei dire che nelle senior finalmente stiamo riuscendo a costruire e non puntiamo più soltanto sull'individualità, ma oggi il mio pensiero va al fatto che siamo riusciti per la prima volta a mettere sul podio ben 18 ragazze, 18 donne, under 23 italiane, sul 21 facenti parte della delegazione italiana. Le tre che non sono andate sul podio hanno comunque contribuito facendo delle splendide finali B e conquistando due ottimi ottavi posti, per cui possiamo quindi con orgoglio affermare che il lavoro prodotto negli anni ha iniziato concretamente a dare risultato. Le 18 medagliate si dividono in 6 medaglie che è un record per il nostro settore femminile, mai prese tante medaglie, di cui 3 ori, un argento e due splendidi bronzi. Concludo ringraziando sempre il direttore tecnico per la fiducia accordatami, il team manager Alessandro Ciaccini, tutto lo staff medico che ci è stato vicino in questa lunga settimana di gare e per ultimo dedico questo nostro grande risultato al mio amico e collega Leonardo Antonini augurandogli di tornare con noi già dall'anno prossimo.